sta registrando eccoci qua siamo in partenza quindi il primo che facciamo il primo che facciamo è il c'è posso mandare poi questo video a professionale cioè fai ridere ma alpe questa è l'alpe con quante 3 a pepe interno un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come questo? 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 Dritto, dritto! Ci premiamo agli incroci e ci raggruppiamo. Come questo? 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 Occhio che qua stringe! Stringe! Come questo? 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 Sei giovane? Non lo so! Come questo? Come questo? Come questo? Come questo? Come questo? Come questo? Un giorno giriamo su Cresta pure là. Da un po' che non lo faccio. Come questo? Come questo? Come queste foglie! Sento rumori eh! Occhio! Grazie eh! Scusa! Grazie! Buon lavoro! Grazie! Buon giro! Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro! Ciao! Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro! Ogni tanto ricordati che sono dietro eh! oh hey ok 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 Sì Non so ho sentito un sentiero Bene Non so ho sentito un sentiero Ok Ci buttiamo giù dal The Rock In questo caso Parte leggermente bassa In questo caso Ok In questo caso Bello Grazie È molto finale questo Sì Mi sapevo bene dove passare Lo ginocchiere così andrà non servo Ah già Ero portiere Roba fresca qua Qua è roba fresca State interni Finchia le lamette acuminate Copertoni cerchi State destra Restra 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 Qua dove cazzo passi Qua dove cazzo passi Grande 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 Franchini Molla un po' Molla un po' Molla un po' Stai su Molla 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 Ok guarda l'uscita Via Cominci a guardare l'uscita Alessandro Yeah Yeah Grazie.